Conferenza stampa fiume del club giallorosso in cui sono stati messi un po' i puntini sulle i in vista della prossima stagione. Prima di tutto è stato confermato in toto l'asset societario ma anche la volontà di strutturare il club come un'azienda in grado di poter camminare da solo sulle proprie gambe. Una prospettiva importante che si basa soprattutto sulla capacità di sapere attingere dai giovani e creare delle importanti plusvalenze soprattutto dal settore giovanile. Il presidente Sticchi ha sottolineato l'importanza del lavoro fatto per garantire dei fondi importanti dagli introiti televisivi che sono raddoppiati rispetto alla passata Serie B in sede di Consiglio di Deca. Capitolo mercato, il Lecce non punterà a giocatori altisonanti ma Pantaleo Corvino ha affermato che è già al lavoro per rinforzare una rosa che può contare però sui giovani che stanno proseguendo il loro processo di crescita e inserimento nel calcio italiano e che il prossimo anno potranno offrire un contributo importante intanto nella giornata di domenica sarà il giorno del nuovo tecnico Marco Baroni.